Filippo Franchi, autore del gol che ha regalato questi primi tre punti all'Avezzano, una vittoria importantissima dopo una settimana difficilissima. Sì, è stata una settimana particolare con il cambio di mister, però noi comunque siamo sempre stati concentrati solo sulla partita di domenica. Speravamo arrivassero questa vittoria perché è da inizio di tiro che stiamo lavorando sodo, ce la stiamo mettendo tutta. Purtroppo fino adesso i risultati non ci avevano aiutato, magari con questa vittoria riacquisiamo la serenità perché la serenità viene solo attraverso i risultati. Quindi siamo contentissimi e adesso ci godiamo questa vittoria. Senti, avete dimostrato di essere un gruppo molto unito dopo una settimana difficile, questa reazione, questa vittoria avete dimostrato di essere un grande gruppo? Sì, abbiamo avuto appunto un motto d'orgoglio tra di noi, ci siamo detti che dovevamo mettere tutto per i tifosi, per noi stessi in primis e volevamo uscire a tutti i costi da questa situazione. Siamo stati uniti sin dal primo giorno, ma purtroppo dopo la partita con la San Giustese a causa di alcuni eventi c'era stata una piccola scossa perché comunque perdere così fa male. Però noi siamo sempre stati convinti di quello che possiamo dare per questa maglia e speriamo di riuscire a fare ancora meglio.